Il paese nostro è un paese strano, che non ha assolutamente memoria. Io non so prevedere il futuro, però devo dire che se l'Italia farà bene bisogna fare non uno ma dieci inchini. Perché questo? Perché le nostre squadre, pur imbottite di stranieri anche importanti, negli ultimi anni sono state stromesse sempre da tutte le competizioni europee. Allora, la Juventus, che sono tre anni che sta dominando in Italia, quest'anno è stata eliminata prima nella Champions subito e poi dopo nella Europa League. Se questa è la premessa, ti vengono dei dubbi. Però bisogna dire che nel contempo, però due anni fa, l'Italia è diventata vice campione d'Europa. Quindi c'è qualche cosa che non quadra. Vediamo, speriamo che continui a non quadrare e che l'Italia possa ripetere le espluache e ha compiuto con l'Europeo.